il rayman 3 c'è un bellissimo livello per voi una disco trip abbiamo rayman a cavallo su una specie di skateboard non si sa cos'è per guadagnare il trofeo voi dovete completare la disco trip senza ritirarti ricordatevi che la disco trip ce ne sono tre da fare per andare la foresta di chiara foglia la pozza di fango e il deserto degli knaren dovete sempre saltare con il tasto x e muovetevi a sinistra e a destra come sto facendo io sentito ma è bella questa musica alla disco trip è bella da morire cosa ve ne pare carina la musica poi lo sapete che è lunghissimo questo percorso disco trip e poi ricordatevi di raccogliere tantissimi gioielli per fare il punteggio migliore sembra che questo percorso l'abbiamo finito arrivederci a tutti quanti vi saluto speriamo che vi è piaciuto un po di disco trip e poi ci vediamo ciao 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 ciao